Nella partita tra autogestioni e Acquedotto Pugliese, sul piatto l'annoso problema dei morosi e della sospensione del servizio idrico, il Tribunale di Maglie segna un punto a favore di ACUPI. La sentenza 1366 del giudice Accogli ha sottolineato infatti la correttezza della condotta di Acquedotto Pugliese, riconoscendo il rispetto del principio di buona fede contrattuale. Ciò significa che è legittimo l'addebito delle somme per consumi del servizio idrico integrato in capo alle autogestioni e quindi il taglio della fornitura per mancata corresponsione ad ACUPI degli importi fatturati. Il contenzioso parte da lontano, dal 2012, quando le autogestioni avevano impugnato i provvedimenti di sospensione del servizio adottati da ACUPI, tutti rigettati dal Tribunale di Lecce a causa di ingenti morosità non evase, in base ad un presunto diritto non soddisfatto a sottoscrivere la transazione tra ACUPI e IACP di Lecce. Le stesse autogestioni avevano fatto ricorso alla magistratura e già con sentenza numero 123 di quest'anno, il Tribunale di Lecce aveva stabilito la correttezza dell'accordo transattivo stipulato nel 2010 tra Acquedotto Pugliese ed ex IACP di Lecce, stabilendo il diritto per ACUPI al riaddebito alle autogestioni delle somme di competenza. Il Tribunale di Maglie, sottolinea ACUPI, ha rafforzato questo principio giurisprudenziale ribadendo la correttezza dell'operato di Acquedotto Pugliese, stigmatizzando l'artificiosità delle pretese delle autogestioni prive del carattere della buona fede. Il Tribunale di Maglie, sottolinea ACUPI, ha rafforzato questo principio giurisprudenziale, ribadendo la correttezza dell'operato di Acquedotto Pugliese e stigmatizzando l'artificiosità delle pretese delle autogestioni prive del carattere della buona fede. E' opportuno ricordare, continuano, che la morosità incolpevole di singoli utenti è già salvaguardata dallo strumento del bonus idrico e che il metodo tariffario nazionale fa gravare sulle bollette dei cittadini, in regola, fortunatamente in Puglia la grande maggioranza, anche il costo delle morosità non recuperate. Perseguendo le morosità colpevoli, conclude Acquedotto Pugliese, salvaguarda pertanto soprattutto l'equità delle bollette a carico di tutti gli altri cittadini.